Consenso Bipartisan oggi in Consiglio Comunale per la cittadinanza benemerita lo studioso Amina Gregori. La consegna avverrà sabato 9 marzo alle 11.30 nel Salone dei Quadri di Palazzo Comunale. È una cremonese illustre che ha dato molto lustro alla nostra città. Ebbi la sorella al liceo classico come insegnante di storia dell'arte, quindi anche una famiglia di studiosi, di appassionati d'arte, e quindi è un nome importante visto che compie appunto 100 anni in questi giorni. C'è questo riconoscimento a cui noi abbiamo aderito. Rappresenta la città di Cremona per tutto ciò che ha fatto nel corso della sua vita. Penso che tutte le persone cremonesi che fanno grande il nome della nostra città e diventano portabandiere della nostra città nel resto del mondo debbano essere riconosciute, valorizzate e premiate perché indirettamente fanno sempre del bene alla nostra città anche se non vi abitano più. Sono davvero felice per questa scelta bipartisan che è stata portata avanti trasversalmente ai partiti perché la cultura a Cremona merita questa persona. Mina Gregori ha dato tanto alla città. È stata distinta non solo nell'ambito locale ma anche nell'ambito nazionale e internazionale come critico d'arte che indesperta in molte discipline artistiche con numerose pubblicazioni, numerosi interventi pubblici e su riviste specializzate relative alle sue competenze. Teniamo che sia giusto e meritevole riconoscere ad una persona che sia distinta per una grande capacità, passione e cultura tutta la propria vita dedicata appunto alla scoperta e alla conoscenza delle cose belle quindi anche noi ci uniamo convintamente a questa proposta e la sosteniamo. Si è contraddistinta per il suo impegno dal punto di vista artistico e tutto il resto quindi è un atto dovuto e ci ha trovato tutti d'accordo Grazie